Il sacrificio per amor di patria è la più alta espressione dell'italico splendore. Il sangue versato sul fronte orientale bagna le steppe russe. Le divisioni del Prasca combattono fianco a fianco con il fratello bulgaro. La vastità delle pianure bolsceviche è a perdito d'occhio. Il nemico, il più grande che Roma abbia mai affrontato, non è incline a cedere terreno. Qualcosa preoccupa lui. Fonti del servizio segreto imperiale rivelano strani spostamenti delle truppe tedesche sul limes germanico. L'Ungheria proclama il suo impero e rivendica le terre a sud del Danunio. Il patto di non belligeranza stipulato a Vienna con le potenze dell'asse potrebbe quindi vacillare. Un'ombra ha legge sul destino dell'Italia. Lui è preoccupato. Cecioli belligeranti, buongiorno e bentornati dal vostro Dictator Lorenz. Oggi continuiamo l'avventura con lui e siamo nel bel mezzo della guerra con la Russia. Una guerra che, insomma, ci ha portato le risorse che a noi servivano, cioè quelle del Caucaso. Ma va da sé che riuscire ad avanzare per prendere anche lo steel sarebbe sicuramente un qualcosa di molto importante, visto e considerato che noi abbiamo una grossa mancanza di acciaio. Allora, detto questo, io sono anche abbastanza preoccupato per quello che potrebbe succedere con la Germania. Nel senso che, oggettivamente, qua si corre il rischio di esporci troppo. Corriamo davvero il rischio di esporci troppo contro una Germania che, volenti o nolenti, è comunque una grande potenza. È estremamente belligerante. Vediamo se noi riusciamo, in qualche modo, a prenderli. Ok, via. Ok, proviamo ad avanzare con loro. Vediamo se riusciamo, in qualche modo. Intanto le nostre infrastrutture e i supply hub stanno dando supply in quest'area. Dove sono i carretti del Messe, mio signore? I carretti del Messe, i carretti del Messe, i carretti del Messe mi devono venire qua, mi devono venire, mio signore, devono venire qua. Devono venire qua i carretti del Messe. E si devono anche muovere i carretti del Messe. Avanti. Mandiamo dei rinforzi a tenere il fronte Ok stanno provando a sfondare da qua sotto I nostri Intanto allora Noi dobbiamo innanzitutto controllare Se abbiamo qualche missione del duce Allora Regno d'Albania Ungarian Creme to Vojovdina La Vojovdina però ce l'abbiamo noi Io non voglio Noi potremmo fare i war bonds Possiamo fare i war bonds Land appropriation magari no Miniere di divirigi Sviluppiamole perché queste ci servono ragazzi Allora iniziamo a fare anche dei paramilitary training Ok Eh sì Qui la situazione inizia a farsi Inizia a farsi pesante Inizia a farsi pesante qua la situazione Provate a concentrare le vostre forze su questo tile Dov'è il messe? Ok messe sta arrivando No però aspetta Ma voi chi siete scusa? Voi dovete andare con lui Cioè Non col messe Ok Vai messe Vai messe Mi raccomando Messe Intanto qua in Italia dobbiamo stare estremamente attenti A queste cinque Io direi Inizierei a buttarle Sul fronte Di difesa Dei confini Mettiamo l'imes Germanico Perché il limes germanico È un qualcosa che Oggettivamente a noi Fa abbastanza paura Mi inquieta abbastanza questa cosa A meno che No aspetta Noi potremmo fare un lavoro di questo tipo Guarda Noi potremmo portare Nell'imes germanico Dunque Allora Il prasca Poi potremmo portare Anche vecchiarelli Che è quello dei Dei mountaineers E ci mettiamo Badoglio Come field marshal E il buon badoglio Adesso Creerà Un bel fronte qua Caro badoglio Dovrai Gestirti Gestirti tutto Ok Allora tu Potresti anche Allora vieni qua Tu ti metti al confine qua Con la Francia Te ti abbiamo già posizionato qua Tu invece inizi a posizionarti qua Ok Dobbiamo stare attenti eh Dobbiamo stare molto attenti E qua c'è veramente il pericolo Pericolo Allora Allora intanto Allora Allora Tu caro Caro field marshal Dove sono i cinque carri? No Sono già qua Perfetto E iniziate a muovervi voi Facciamo lavorare il field marshal Che mi sembra decisamente più competente Fuel reserve program Molto bene Intanto C'è un land lease Da parte Della Spagna Del nostro alleato Ok 500.000 di fuel Adesso abbiamo veramente un sacco di fuel Perfetto Molto bene Dunque Vediamo un po' qua Che cosa abbiamo preso Allora Allora Noi potremmo Prenderci Le self propelled guns Queste sono per l'SP artillery Queste sono per l'SP artillery Capo supremo Cosa gli serve? Towards greater Italy Ok Noi non abbiamo la greater Italy Noi abbiamo l'impero Allora Albania No Io lascerei perdere un attimo Questo ramo E andrei a prendermi A sto punto Vallo alpino Del littorio Army leaders Vediamo un po' La littorania balbo Potrebbe servirci Via della vittoria Libian railway No Questo qua potremmo Lasciarlo un attimino indietro Io andrei per Per prendermi le self propelled guns Ok Ok Noi qua come siamo messi Siamo indietro di artillery In 85 giorni Però effettuiamo Un replenishment Intanto Noi possiamo prendere Il terzo step Dell'armi commander Division speed Assolutamente Troppo importante E per l'air command Air support No aspetta Ground attack factor Eccolo qua Perfetto Perfetto Intanto il Giappone Sta straripando Giappone che sta straripando Rinforzi a manetta Molto bene Dai che si avanza Dai che si avanza qua Dai che si avanza Perfetto 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 ragazzi Perfetto Dai che si avanza pesante Qua in Russia Attenzione L'Ungheria Proclama La grande Ungheria E qui ragazzi Siamo Siamo vicini Al tracollo Qui ragazzi Siamo vicini Al tracollo Nel senso che Secondo me La Germania Potrebbe seriamente Fare cose Pronto all'azione Allora Manciucuo Claim all'indocina Sai che io ho abbastanza Ho abbastanza paura qua Ho parecchia paura Allora Vediamo di costruire Dei supply hub In queste aree Eh qua inizia a esserci Un sacco di problema Di supply Inizia a esserci Un sacco di problema Di supply Ok Qui abbiamo guadagnato Un nuovo aeroporto L'Irlanda è entrata Negli alleati Qui ragazzi Siamo In una situazione Terribile Nel senso che Potrebbe succedere Di tutto Potrebbe veramente Succedere Di tutto Ok Nel qua ci stiamo Ci stiamo Estendendo Communism China Issue Diplomatic request Ok Noi fin tanto Che con loro Abbiamo il non Aggression Va bene Sai che io Inizierei a farmi Mandare Un 19 Divisioni Dalla Spagna Inizierei a farmi Mandare un 19 Divisioni Dalla Spagna Meno Da iniziare A mandarle Sul fronte Con la Bulgaria Perché io qua Non mi fido Minimamente Con l'Ungheria Pardon Ok Qui il fronte Inizia ad essere Abbastanza esteso Qui il fronte Inizia ad essere Abbastanza esteso Inizia a spostarvi Perfetto Qui ci sono Le camicie nere Della rivoluzione Ok Improvere E questo è importante Ragazzi Perché Perché noi adesso Possiamo andare a ricercare Il carro Duce In 113 giorni Ok Noi dobbiamo Anche pensare Dobbiamo anche Pensare Ai template Dobbiamo duplicare Questo template Perché ci serviranno Sicuramente I medi 46 46 Ok Li facciamo Da 30 Con Logistic Company E questi Dovranno saltare Fuori Qui in Italia 10 10 10 Divisioni di Carri In Toscana Perfetto No No Non ce la facciamo Farne 10 Ne faremo 5 Allora Ne faremo 5 Ok Ok Intanto stanno arrivando Anche gli spagnoli A difendere Il fronte Sì signore Perfetto Allora Noi come intelligence Abbiamo completato Ok Io direi A questo punto Iniziamo a mettere Dell'intelligence Qua In Italia In Ungheria Poi continuerai Su Mosca Inizierei a spirare Quello che sta facendo Berlino Continua a fare Counter intelligence Perfetto Ok Improved Decimetric Radar Perfetto Allora Adesso Andiamo a farci Andiamo A farci La corazza E poi Il prossimo slot Andiamo a migliorare Tutta l'aeronautica Allora Aspetta un attimo Che qua Ci sono Delle Unfulfilled Request Ok Sistemato il trade Dai cicciuli Su Quanto sono lenti A costruire I supply De pot E tutte quelle robe Lì Mamma mia Sono veramente Veramente Lenti Ok Allora 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 Ok Terrificante questa cosa Questa cosa è veramente terrificante Formazione Avanzate Avortire Self-propelled guns E qui ha un problema Ok adesso dobbiamo decidere Se fare l'ansaldo d'upois Medium tank chassis O la modernize A saldo Armed research speed Artillery research speed Naval research speed No factory output Perché noi le ricerche Comunque Sia in campo Di carri Che in campo di aviazione Le abbiamo già Belle avanzate Streamed line Vai Noi abbiamo due missioni attive O dieci missioni del duce Le abbiamo fatte Dieci missioni del duce Le abbiamo fatte Allora aspetta Perché qua Abbiamo Eh questo lo dobbiamo prendere Capital ship Air combat training E andrei per il tactical bombing Andrei per il tactical bombing Facciamo fatica Comunque Facciamo fatica Ah è già è vero Questo è un mare chiuso Quindi Ah mio signore Ok Confine con la Germania Pian piano si sta guarnendo Pian piano si sta guarnendo Bene Mi fa molto piacere Noi siamo sotto pesanti Di light tank Siamo sotto pesanti Di light tank Ci sono i nostri light tank Eccoli qua Ok L'heavy tank chassis Adesso faremo Il vero Heavy tank chassis Attenzione E' scoppiata La guerra Tra L'asse E la Vichy France Attenzione Spagna Che inizia a portare Tutte le sue truppe Sul confine spagnolo Attenzione 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 Attento Qua dal mio punto di vista Non riusciamo ad avanzare Qui non so se riusciamo ad avanzare Perché iniziano ad essere Ok è entrata anche la Vichy France Facciamo il non aggression con la Vichy France Perfetto Così liberiamo un fronte Noi potremmo andare Noi potremmo mandare Delle divisioni In Russia Noi potremmo mandare delle divisioni in Russia Comandi Ok Ansaldo Facility Ferrea Mole Ferreo Cuore E' il cuoricino Di Eltarion Difesa E breakthrough Che bella combo Che bella combo Ah senti una cosa Tu Cosa hai preso Organization first Prenditelo Oltre a questo Adesso sai che cosa facciamo Fai una bella roba Prendi questo Rideployati E adesso vedi di fare Un lavoro di questo tipo Perfetto Ordini Via Riallocamento Pronto signore Formazione 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 Ok Cancell and lease La Grecia Ma sta cazzo di Grecia di merda di Rodi qua Che cazzo vuole Dammi le tue forze Non ne ha E' stronza Mio signore Stupida Sta Grecia Pronto Pronto all'azione Ok Perfetto Pronto signore Pronto all'azione Salire lì Perfetto Ritiriamo la tachè Dal Giappone Ok Ok D'è che si sta avanzando In Russia D'è che si sta avanzando In Russia Pronto L'ultimo step L'ultimo step delle artiglierie E attenzione perché tra poco abbiamo anche il carro duce Abbiamo quasi ricercato il carro duce Ordini Sì signore Sì signore Ok Pronto signore Non fermatevi Ok Ok Fermarsi Ok Attenzione Allora perché noi adesso qua abbiamo bisogno Anche di aerei Quindi io direi Aumentiamo Mettiamoci qua un airfield E adesso dobbiamo anche portare Il supply qua Mamma mia che bordello ragazzi Mamma mia che bordello Allora abbiamo due ricerche Io opterei per Tu continui a ricercarmi le migliorie Tu inizi a ricercarmi caccia Più avanzati Ok Adesso qui c'è un grosso problema però Qui c'è un grossissimo problema Noi abbiamo bisogno Di bombardieri Noi abbiamo bisogno di bombardieri Sulle western steppe Ci serve l'aiuto dell'aeronautica Ragazzi Ci hanno catturato un agente Ci hanno catturato un agente Ma ci mandiamo lei Io direi Iniziamo a preparare Dei contatti Di resistenza Ok Si lavora con lo spionaggio Attenzione perché a nord Comunque non teniamo Formazione A nord non teniamo Eccolo qua il carro duce Sei il carro duce Sei il carro duce Perfetto Allora a sto punto Vediamo un po' che cosa possiamo iniziare A fare Io opterei Per Iniziare con le meccanizzate Pronto Avanzate Avanzate Ok Pronto Sì signore Vediamo se riusciamo ad allargare qua il fronte Qua bisogna fare Pronto signore Un sacco di roba Niente no Bravi 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 che avete declinato l'attacco Bravi che avete declinato l'attacco E però c'è un grosso problema di supply Togliamo il supply Agli alleati Vaffan bagno ai nostri alleati Disgraziati Che ci succhiano i territori Ci succhiano i territori Andiamo per l'army leaders E vi andare Oh guarda Guarda di qua intanto Pronto all'azione Pronto all'azione Avanzate Ok Ok Togliamo l'Igurgo Perfetto Si sta espandendo l'intelligence di lui Si sta espandendo l'intelligence di lui Perfetto Presa Urgo E adesso qua Noi dovremmo Guai Vi 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 Ok Abbiamo Uno svizzero Che cacchio vogliono gli svizzeri Raga Mio signore Un'indecenza Ok Ed è che qua abbiamo sistemato il problema Però No, non sono neancora pronti in Spagna Allora, vediamo se riusciamo a prendergli questo aeroporto Ok Perfetto Chiudere qua E abbiamo fatto un'altra sacchetta dell'amore Ora, il problema grosso è che a me servirebbero i carretti per sfondare Mi servirebbero i carretti per sfondare E noi non ce li abbiamo neancora i carretti Questi quanto ci vuole? Cosa gli manca? Gli manca support equipment Gli manca support equipment Ok Ok Super Heavy Tank Chassis Adesso possiamo finalmente fare i Modern Musculus Per produrre Cesare Ah, è il Cataphract Mortis Ah, ci siamo Ci siamo ragazzi Col Cataphract Mortis Io vorrei capire una cosa però Vorrei capire una cosa Ok Perfetto Perfetto Pronto Avanzate Via 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 Attenzione, 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 attenzione Perché ragazzi il Reich ha dichiarato guerra alla Grecia Oh merda Oh merda Oh merda Il Reich ha dichiarato guerra alla Grecia Oh Cristo Avanzate Merda Merda Questo è un problema Questo è un problema grossissimo Signori siamo in guerra con il Reich Siamo in guerra con il Reich millenario E questo è un problema E questo è un problemone Perché noi con il German Reich Aia Aia Eh, 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 eh Eh, questo è un bel problema Signori Io direi che L'episodio di domani sarà devastante Nel senso che adesso siamo in guerra Con il German Reich e con la Russia Riuscirà lui A sopravvivere Anzi A prendere vantaggio sul nemico Sempre domani Sempre alle 14 Sempre Colm Guardatelo Lui Più autarchico E attaccato che mai Molti mici Molto onore Ciao belli Ciao belli Ciao belli